Siamo tutti intelligenti. Tu no. Ma dai, ma stavo scherzando. Beh, in ogni caso tutti gli altri lo sono, tranne me. Gli italiani, pensate, sono al sesto posto nel mondo per quozienti di intelligenza. E tu ovviamente non sei italiano. Ma quanto intelligente è ognuno di voi. In casa vostra, ad esempio, chi lo è di più? E nel vostro ufficio, tra i vostri amici? 50 domande ci diranno scientificamente quanto siamo intelligenti. Il primo test nazionale dell'intelligenza. Ma vogliamo dire quando? Beh, dillo tu. Mercoledì 30 gennaio alle ore 21 su Rai 1. Quanto siamo intelligenti. Saperlo sarà un grande spettacolo. Sul vostro quotidiano, il giorno del programma, troverete un tagliando che vi aiuterà a partecipare comodamente da casa. Allora, ricordatevi l'appuntamento. Mercoledì 30 gennaio qui, su Rai 1. Quanto intelligente, bravissima. Molto intelligente. Una cosa incredibile, non sapevo, io non immaginavo nemmeno...